Felicità, il tenersi per mano, andare lontano, la felicità, il tuo sguardo innocenti... Una festa preparata per una settimana con il Clou ieri sera. Per la Fuzz al Terranovese il traguardo della Serie B con una giornata d'anticipo è infatti stato omaggiato nell'ultimo confronto della stagione regolare in casa contro l'IGP Pisa. Coreografia in stile risico per la tifoteria che centra l'obiettivo di conquistare la Toscana e poi si parte con un ritardo notevole, peraltro rispetto alle 21.30 canoniche per l'arrivo problematico da parte degli ospiti. Poi il match per quello che può valere che finisce inevitabilmente in parità 5 pari visto che all'IGP serve un punto per ottenere il terzo fusto e la Fuzz al è inevitabilmente scarica dopo il successo di Torrita. C'è però spazio per un gesto di valore tecnico assoluto come la rovecciata di Righeschi e alla fine ecco il ringraziamento da parte del pubblico con la nuova presentazione della squadra schierata a centro campo. L'amministrazione comunale appone una targa al palazzetto a ricordo dell'impresa come già più volte detto prima volta di una squadra di terra nuova in un palcoscenico interregionale e poi parte la festa con tanto di immancabili fuochi d'artificio. L'appuntamento è per il prossimo settembre, intanto resta per tutti la pura e semplice felicità. Grazie